E ragazzi io sono Feriniti Io sono Sefe e questo gioco è il Mac Rush World Dovrebbe essere un gioco un po' nel serie GTA con grafica cartoon Abbastanza simpatico dove teoricamente il nostro lavoro mi sa che è consegnare le pizze Però poi mi sa che il gioco degenera E nel mentre in questo momento noi abbiamo una musica in sottofondo Che ora sentirete anche voi e sono un po' preoccupato E' un po' Non lo so Vedremo Vedremo Allora Let's drive Credo che questo sia il nostro bel personaggio Suppongo di si Facciamo play Vedi qua si tratta di lavorare in pizzeria Credo che puoi lavorare anche per gli o-dog Pizza o-dog Pizza È molto semplice Ma se faccio change ride invece cosa posso cambiare? Ma probabilmente sono da comprare infatti Abbiamo 300 monete quindi no non c'è nulla Dai andiamo Ok Ok va bene va bene va bene Quindi faccio così E dovrebbe andare no? Sì Ok proviamo Non ho mai provato il gioco Ho soltanto visto che graficamente era molto carino E qui ho detto Boh giochiamocela Salve Salve Siamo finalmente aperti Eh meno male Allora Eh sì vuoi provare un sacco di pizze Va bene ma Qua per favore ci manca solo la storia Vogliamo lavorare Non ci interessa la storia della tua pizzeria Allora Fari mi devi aiutare a capire questo gioco Ok Ok Ma hai preso un lavoro del poliziotto Ma io dovevo consegnare una pizza Ma stai allungando la strada Non devi fare queste robe Voi volete la pizza Ecco voi Tenete Ok 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 Cos'è questa roba che si brillucica qua? Non è la più pallida idea Ma questa musica continua per sempre Vabbè raga voi non sentirete il gioco Perché non è possibile tenere questa roba Allora prendiamo tutte queste belle cose Sono molto confuso nel mentre Non ho ben capito che gioco stiamo giocando Non l'ho capito neanch'io Però per ora noi continuiamo a consegnare le pizze Sì dai Mi sembra la cosa più interessante Permesso Eh è andata così Anche il recinto Permesso dai vai Dobbiamo tagliare la strada Poi più uno Come più uno Non ci dovresti premiare La polizia è tranquilla I need a donut Amico vendo pizze Ok Non l'hai visto il cartello Non investirlo Ok With extra cheese Ciao Ciao bello Allora Ho notato che abbiamo una barra in alto a destra Tipo di ricercato Che piano piano un pochettino si stava formando Quindi vuol dire Perché abbiamo distrutto tutto Che non possiamo distruggere tutto come vogliamo Dobbiamo stare attenti My soul Devo stare un po' più attento Devo cercare di calmarmi E di guidare con un po' più di tranquillità Ok Ok step Andiamo avanti Dicevo i soldi sono aumentati Non lo so Ne abbiamo sempre 300 Evidentemente a consegna completata Ci darà una marcia Eh ma Cioè Questi qua non ci stanno pagando Più 5 Però non di soldi Eh boh Evidentemente ci ridarà a fine corsa Non lo so Ok Va bene Va bene Va bene Non ho davvero capito Ti dico la verità Non sono solo io a essere confuso No no Sono molto confusa Ho notato Allora funziona così Noi non possiamo scendere È un GTA stando su un veicolo per forza Ok Abbiamo il damage che ti curi mangiando Ok Oppure credo anche con questo Visto che ci siamo lo controllo all'uolo va Sì E abbiamo pure il wanted Noi dobbiamo cercare di non andare troppo alti Né col damage Né col wanted Ok Nel mentre consegnare le pizze E ci sono anche missioni secondarie E scivenzine varie Che noi possiamo fare Va bene va bene Per fare altri soldi E per fare altri obiettivi Se mi voglio capire Quando finisce questa corsa E quando ci danno i soldi Perché voglio la macchina nuova Eh i soldi anche io non li ho ben capito Perché non ci stanno pagando Nessuno qua ci paga Hot pizza Sì hot pizza Ok però Occhio Sei tranquilla Guarda che bravo Eh troppo Troppo Ok Ma dov'è Però non si può nascondere Chi vuole la pizza eh Ok perfetto Io mi sto stancando di fare Il portapizza Te lo dico Ecco qua Uè che spari Ho reagito In modo sbagliato Lo so scappa Sta andando male Steph Sta peggiorando la situazione Io lo volevo fare Però anche loro Che per un piccolo tamponamento Sparano Mi sembra Un po' nervosetti Su gt anche quando gli dai un bacio Ti sparano No sono un po' nervosetti Steph E tu You want pizza? Mentre ti stanno seguendo Sparando Volete una pizza? Certo E vabbè io provo Facciamo pace Io provo a venderle le pizze Mi sembra giusto Scusate Dai raga basta Cosa devo fare Per perdere la polizia Secondo te? Di sicuro Non continuare a schiattarsi Sulla polizia E di sicuro Smettere di investirli Steph Questa è una cosa chiarissima Potrei provare a nascondermi? Prova E dove? Non puoi Era un bel nascondiglio Però a me Eh potenzialmente Sì Potenzialmente Allora un ottimo nascondiglio Se non è che magari Consegnando le pizze Per le wanted Prova Permetto Wrong way Hai letto? Sì perché stiamo andando Forse da tutta altra parte E ho capito ma con la polizia Che mi spara è normale Che sbaglio dove andare No ovvio Eh cioè non è colpa mia Ma l'hanno sparata loro Non io Vero? Cioè è stato lui Sì Ha ucciso un'innocente Totalmente L'abbiamo visto tutti Totalmente Siamo tutti testimoni Guarda cosa succede Quando ne vesti qualcuno Non so perché Bellino viene parato via Col palloncino Esatto Ok Abbiamo visto tutti Poliziotti corrotti Ma esatto Che uccidete i civili Innocenti Senza motivo Perché siete smirati Esatto E basta I'm the low I'm the low Abbiamo capito Che sono la legge Tu gli chiedi scusa Ma continui a investirli Continuano a essere schiacciate Un sacco di persone Le tue pizze Non sono più consegnate Cosa succede Se raggiungiamo L'wanted massimo Forse veniamo licenziati Ok proviamo Dove cavolo Dobbiamo andare Non lo so Sono rimasto E toglietevi però Permesso Sì grazie Uh bello No non avevi velocità Però che tristezza È andata malissimo Se noi consegniamo Una pizza Ho rischiato Non sai quel tipo Se noi consegniamo Questa pizza Ok Secondo me ci perdono La polizia Ah no ok Stavamo solo facendo Il loro lavoro Ma non è vero Secondo me Secondo me sì Secondo me che non la trovo Perché è qua in mezzo Da qualche parte Non lo so Ed è introvabile Permesso Non abbiamo una mappa No vero Si sta rompendo No 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 Ci stanno rompendo Il veicolo Il veicolo Fa un sacco di cibo Sembra che siamo vicini però Ok Qui dentro o no No Ok Oh si capisce nulla Arrivederci A sto punto Non ho sparato Tranquillo A sto punto direi che dobbiamo scoprire Cosa succede con il wanty dal massimo Anche secondo me Vero Cioè Ci stanno costringendo Ormai A scoprire quello Ma l'hai visto che si è sparato Cioè era chiaro no Sì No Siamo a fare Not again No mi sa Siamo con wanty dal massimo Ma non sembra che cambi troppo Se non che la polizia aumenta no Ok Step Stiamo esagerando Siamo esplosi Ok Però fate esplodere anche loro Almeno Allora vediamo il nostro scorro Non ci ho capito nulla di questo gioco Questo ti ha detto Spero che il tuo gatto muoia Ma davvero? Sì Ma che cosa c'entra il mio gatto Povero Ma l'hai investito È la cosa che ti ho detto Prima di schiattare Eh ma dimmi Spero tu muori Non il mio gatto Il mio gatto è una Vabbè perché sono quegli insulti Cattivissimi No non c'entra Era fuori luogo Stop da roba Funziona così evidentemente Non lo so Wrong way Qua è Perché? Ciao Siamo a 6 Stiamo andando bene Allora Sogniamo anche questo Voglio una nuova missione Datemi qualcosa da fare Sono una persona che vuole aiutare I cittadini Vai dove c'è qualcosa che sbrilluccica Ok Quella era da prendere? No questa non voleva parlare Ok Ma perché ci dici strada sbagliata Tutto il tempo? Hai visto? Che cosa? Mi ha creato una barriera invisibile Non potevo andare più in lei Oh sì? Sì Forse perché siamo troppo lontani Dalla strada Che dovremmo percorrere Qualcosa del genere Può essere E a sgomo Hai visto? Che bravo Che sono a virare Hai visto? Visto? Garza Occhio Non prendere la polizia Ecco qua Con lampione lo doveva prendere Con lampione lo doveva prendere Adesso ci spareranno per sempre Steph Per colpa tua No no E non ci lasceranno più in pace Non so se funziona Non so se funziona Pronti? Guardate Non funziona Funziona No non funziona Quanti anni hai giocato a GTA? Tanti ma questo non è GTA Appunto Non è GTA Sì che GTA Non è GTA Guarda il wanted Bah Sta scendendo Ammetti Ammetti ciò che è accaduto Molla Sì funziona Funziona Il problema è come esco Così Allora Scusate Tutto gli devi distruggere Ormai almeno è lineare Capito? Sì Stop the rubber Lì davanti Ok È divertente però Siamo Almeno quasi giustificato Dal metterlo sotto Siamo degli ultimi poliziotti Comunque Cioè ogni volta che c'è un ladro Noi lo stendiamo Quindi siamo bravissimi Pick up the IP Vai Dai Non ce ne frega Sali Vai Ok Let's go Let's go Devo portare l'IP a casa velocissimo Quindi questa è la sgomotuta Ok Vai Te gli hai dato fuoco L'hai fatto ribaltare Però ciao Ci ho ringraziato Sì L'importante è quello Due missioni fatte Ok Allora Pizza 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 Dov'è? 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 Pish Pish Vabbè Quello però Era in mezzo alla strada Però stava cercando Pish Stai dietro A posto A posto Ci fermiamo così con questo giochino Qua sotto compariranno altri video Fateci sapere se vi è piaciuto Non so perché non siamo mai stati pagati Anche con uno score così fantastico ed incredibile Guarda siamo stessi Ci chiamiamo Manicobobo 15452 Manicobo